La tragedia di Anna Maria Scolese, insegnante di 49 anni e originaria di Sarno, è solo una delle purtroppo numerose storie di donne vittime di violenza. Il suo assassino, il marito vicebrigadiere, ha utilizzato la sua pistola d'ordinanza contro la moglie per poi togliersi la vita nel 2021. Storie come questa dimostrano l'urgenza di combattere la violenza contro le donne ogni giorno. In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si terrà il prossimo 25 novembre, la città di Sarno si prepara ad affrontare questa tematica con una serie di iniziative promosse dall'amministrazione locale. L'obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica e creare una maggiore consapevolezza sul problema della violenza di genere, che non può essere relegata a una singola giornata. Noi nella nostra piazza abbiamo un cartellone esposto al municipio che ricorda la lotta contro la violenza sulle donne. Una nostra concittadina qualche anno fa morì per mano di suo marito, che era addirittura un uomo di legge, che ha violato la sua divisa perché il mostro può nascondersi in chiunque. L'importante è che le donne cominciano ad avere la consapevolezza di doversi salvare anche da una persona che può apparire a loro vicina. Anche in settembre libri abbiamo dedicato storie di donne, addirittura abbiamo parlato di un femminicidio avvenuto qualche anno fa di una poetessa inglese. Fu nascosto questo apparente omicidio dietro a un suicidio. Oggi le donne hanno una nuova consapevolezza, lavorano, spesso cambiano anche partner e questo provoca una reazione perché l'antica mentalità che la donna sia un oggetto nelle mani di chi la possiede non è ancora finita. Noi non possiamo parlare di femminicidi solo per il 25 novembre. Noi per il momento avremo due appuntamenti, stiamo cercando di preparare un terzo il 21 novembre con gli altri comuni dell'ambito. Agro Solidale organizza il Teatro dell'Ise e un grande convegno con i quattro sindaci Sanno, San Valentino, San Marzano e Pagani con l'assessore regionale Fortini dedicato proprio a questo tema perché noi abbiamo un centro antiviolenza nella città di San Valentino e una casa rifugio per donne che cercano appunto rifugio da uomini violenti nella nostra città. Ma noi, come dire, siamo in costante lavoro. Le scuole ci stanno già comunicando in questi giorni i loro appuntamenti. Il 24 una marcia silenziosa. So che anche altre scuole medie e licei stanno organizzando degli eventi. Di presto avrò il calendario. Noi siamo fortunate perché abbiamo un reticolo scolastico fatto da persone molto sensibili e dai bambini che noi dobbiamo iniziare. Partendo da loro, dal fatto che non bisogna mai avere una reazione violenta è l'unico messaggio che possiamo dare. Quello di non usare mai la violenza contro il prossimo, soprattutto contro una donna.